litri d'acqua la situazione dei miei capelli è questa la sistemerò come possibile comunque dopo essere stata a Napoli dove oltretutto ho ricevuto tantissimi regali tantissimi abbracci anche a Roma ieri non ho fatto Instagram stories perché non ho avuto neanche il tempo ma grazie, grazie, grazie di cuore a tutti oggi ci troverete nello store di Milano sempre insieme a Tezenis e mi vado a sistemare, si già ve l'ho detto viene anche super buttina insieme a noi starà qualche giorno su con me una cosa che non vi ho detto vabbè a parte che ieri aspettate eh se riesco a girare la telecamera una ragazza speciale, una mia amichetta mi ha portato all'evento di Tezenis la felpa di Gian Battista Valle in collaborazione e sono felicissima ma un altro regalo che ho ricevuto in questi giorni quando sono andata a Napoli precisamente è questa borsa incredibile di Chanel cioè io non so come ringraziare Mastro Geppetto uno per essermi venuto a trovare due per avermela portata perché è stupenda Mastro vi lascio lo swipe up perché dovete andare assolutamente a vedere questo negozio vintage quante cosine carine ha ovviamente tutte originali già so che me lo chiederete ma ve lo dico perché non si sa mai comunque mi ha fatto questo regalo che è stato super super grazie a tutti